Massiccio intervento del dispositivo di sicurezza predisposto dalla questura di Padova in seguito al caos scoppiato allo stadio Uganeo a causa dell'invasione di campo da parte di alcuni sostenitori del Catania. I poliziotti hanno fatto rientrare una sessantina di catanesi nel settore della curva nord a loro riservata, con una presenza totale di 1.900 tifosi siciliani. Tre di loro sono stati arrestati per resistenza aggravata. Si tratta rispettivamente di due quarantenni e un quarantunenne, gravati a vario titolo per associazione mafiosa, rapina, stupefacenti, reati da stadio, reati contro la persona e contro il patrimonio e già destinatari di provvedimenti di Daspo. Uno di loro, incurante della presenza degli steward, ha sollevato il maniglione, aprendolo e favorendo l'invasione. La mattina seguente, un quarto uomo è stato arrestato dalla Digos che lo ha bloccato all'aeroporto di Linate, dove attendeva di imbarcarsi su un volo. Un quinto è stato arrestato a Catania. Nel pomeriggio di martedì, altri due arresti sono stati effettuati, uno a Catania e uno a Treviso. Durante l'intervento, che ha consentito di bloccare l'invasione di campo e ripristinare le condizioni oggettive per la disputa del secondo tempo della partita di calcio, sono rimasti feriti otto agenti. Le indagini proseguono.